18 settembre Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Giovanni 21,15, mi ami tu? Nell'ora più importante, Pietro tradisce il maestro, negando di conoscerlo. E ora, dopo la risurrezione, sarebbe naturale una domanda di questo tenore. Perché l'hai fatto? Oppure perché non mi sei stato fedele dopo le promesse proferite? Qualcuno invece potrebbe pensare a una richiesta. Pietro, promettimi di non farlo più. Gesù, invece, va subito al nocciolo della questione. Interrogandolo, gli pone la domanda, mi ami tu, Pietro? Con questo, Gesù intende riproporre le motivazioni che l'hanno portato sulla Terra, ossia salvare l'umanità portandola ad un rapporto personale con il Padre. Non cerca servi né tantomeno sostituti per compiere la sua missione. Cerca solo persone che corrispondano al suo amore e vivano come Egli vive per loro. Disposte per amore a morire per Lui come Egli ha offerto se stesso per molti. Oggi, non guardare all'opera che compi tu. Ravvisa, piuttosto, la qualità del rapporto che intratteni con il Signore. Analizza il tuo amore e le tue motivazioni per Lui. Ravvisa, piuttosto, la qualità del rapporto che intrattene con il Signore.